Una tempesta di proporzioni storiche ha scaricato una quantità record di pioggia su alcune zone di Los Angeles, facendo riversare fango e massi sulle colline di Hollywood. Nella sola notte di lunedì sono caduti sulla città 18 centimetri d'acqua, su una media annuale di 36. Circa 830.000 persone in tutta la California sono rimaste senza corrente lunedì pomeriggio. Nonostante la previsione di un calo delle precipitazioni, il pericolo non è finito, secondo i meteorologi, il sindaco di Los Angeles ha invitato i cittadini a prestare la massima attenzione. La tempesta ha attraversato la California settentrionale durante il fine settimana, uccidendo tre persone che sono state schiacciate dalla caduta degli alberi sradicati a causa del forte vento. In seguito si è spostata più a sud. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles ha dichiarato che mille pompieri hanno affrontato più di 300 smottamenti, più di 100 segnalazioni relative ad allagamenti e svariate operazioni di salvataggio degli automobilisti bloccati nelle strade inondate. Grazie. Grazie. Grazie.